ed entro jesus et maria carissimi amici bentornati ad una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato al catechismo romano questa credo che sia la tredicesima puntata dove affronteremo l'articolo 7 di là da venire a giudicare i morti aprendo un argomento che potremmo sintetizzare con il titolo il premio dei buoni e la condanna degli empi molto molto semplicemente perché questo è esattamente quello che succederà quando arriverà il momento del giudizio di cui si parla oggi vedremo che si tratta di un giudizio duplice giudizio particolare il giudizio generale ossia universale e ricordo agli scrittori non voglio fare pubblicità a tutti i costi ma ho scritto anche su questo argomento un libretto che si chiama i novissimi molto breve sono soltanto 80 pagine quindi molto molto agevole molto scorrevole dove però ci sono appunto tutte quante le informazioni fondamentali ed essenziali riguardanti appunto questa tematica non solo il giudizio particolare ma c'è anche la morte l'inferno e il purgatorio cioè i quattro classici novissimi del catechismo della chiesa allora io comincerei subito a leggere l'articolo 7 ripeto di là da venire a giudicare i vivi e i morti come al solito leggo il testo e poi di quando in quando mi fermerò a a mostrare eventuali sottolineature commenti o cose analoghe significato dell'articolo tre sono gli insigni compiti di nostro signore gesù cristo diretti ad abbellire ed illustrare la sua chiesa egli è redentore patrono e giudice abbiamo visto negli articoli precedenti come egli abbia con la sua passione e morte redento il genere umano e con l'ascensione in cielo abbia preso a patrocinare la nostra causa in perpetuo resta ora da considerarlo come giudice in questo articolo il che significa che cristo nostro signore nell'ultimo giorno giudicherà tutto il genere umano io faccio un piccolo commento rimango sempre incantato dalla chiarezza e dalla bellezza anche di di queste cose che abbiamo appena letto no chi è gesù chi è cristo è il nostro redentore con la sua passione e morte in questi giorni stiamo facendo spero tutti la full immersion in questo grande mistero è il nostro patrono perché è alla destra di dio e intercede per noi quindi per ora la nostra causa fa ora che è in cielo tutto ciò che è possibile per portarci dove lui si trova e dove ci ha aperto la via attraverso il suo preziosissimo sangue e però sarà anche il nostro giudice nostro e di tutti allora paragrafo seguente numero 88 che si intitola la duplice venuta di Cristo la sacra scrittura menziona due venute del figlio di dio l'una quando assunse l'umana natura per la nostra salvezza facendosi uomo nel seno della vergine l'altra quando alla fine dei secoli verrà a giudicare tutti gli uomini questa seconda venuta nella scrittura è chiamata giorno del signore di essa l'apostolo dice il giorno del signore verrà come il ladro notturno e il salvatore stesso quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa per la realtà del supremo giudizio basti quel passo dell'apostolo 2 corinzi 5 10 è necessario per tutti noi comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno ne riporti quel che è dovuto al corpo secondo che ha fatto il bene o il male la sacra scrittura è piena di passi che i parroci incontreranno a ogni pagina assai opportuni non solo a confermare detta verità ma anche a metterla sotto gli occhi dei fedeli osserveranno che come dal principio del mondo fu sempre nel massimo desiderio di tutti il giorno in cui il signore rivestì l'umana carne e riposero in esso la speranza della liberazione così dopo la morte e ascensione del figlio di Dio dobbiamo desiderare ardentemente quel secondo giorno del signore aspettando quella beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio cari amici di nuovo io vi confesso quando faccio queste catechesi lo devo confessare il regalo in primis lo faccio a me perché io queste cose certamente si spera che le so però rileggerle di vederle formulate in questo modo così bello proprio dalla viva voce della chiesa è per me un motivo di grandissima gioia e anche come dire di grandissimo come spirituale godimento proprio allora anzitutto le venute del signore sono due non date retta a stupidaggini di altro genere le venute del signore sono due quelle cioè le venute visibili sensibili quella nella carne avvenuta duemila anni fa per la nostra redenzione e la venuta finale cioè la parusia basta è vero che come si predica sempre nel tempo di avvento santi e dottori padri hanno insegnato che c'è una venuta chi la chiama continua chi la chiama intermedia del nostro signore ma questa non è una venuta sensibile è quella venuta misteriosa che lui continuamente fa nel cuore di chi si apre a lui lo accoglie si converte è certo che il signore lo si incontra viene nella nostra vita certo ma non viene in maniera visibile come lo vedevano i suoi contemporanei quando era in palestina o come lo vedranno tutti quando comparirà come giudice nella gloria volenti o nolenti che ci hanno creduto o non ci hanno creduto che l'hanno accolto che l'hanno combattuto che l'hanno rifiutato se ne facciano una ragione perché tanto se non se ne fanno adesso se la faranno allora d'accordo non si scampa da questo fatto ecco per noi però che siamo suoi discepoli noi non vediamo l'ora che il signore torni nella gloria non vediamo l'ora così come non vediamo l'ora spero che sia così di incontrarlo noi figli di Dio non abbiamo mica paura della morte mica qualcuno ci ha paura della morte la morte non ci fa nessuna paura ci fa paura al peccato mortale nel senso che è il massimo male da evitare perché ci porta alla morte eterna ma la morte corporale non ci fa paura perché la morte corporale è la fine della vita terrena ed è il momento in cui andremo a coronare i nostri sogni più grandi che sono i sogni di vedere il signore di stare con lui e di godere la beatitudine sperando ecco ma questo dipende da noi primo di stare lontano dal peccato per non fare una brutta fine e secondo di purificarci dalle scorie dei nostri peccati in questa vita perché conviene assai primo perché il purgatore si soffre di più secondo perché se facciamo penitenza in questa vita non soltanto espiamo le nostre colpe qui ma guadagniamo anche in gloria dopo quindi io raccomando sempre adesso sta per finire la quaresima beati e le mie congratulazioni di sacerdote a chi ha fatto una grande quaresima la quaresima deve essere vissuta come tempo intenso figlioni miei cari in quaresima bisogna fare penitenza detto fuori di metafora e più se ne fa e meglio è ovviamente in maniera proporzionale proporzionale al proprio grado diciamo così di maturazione spirituale non si possono fare grandi gesti ascetici all'inizio di un cammino di conversione però quando il cammino è già strutturato bisogna piano piano cominciare a entrare anche in questa dimensione perché se non le spieghiamo qui le nostre colpe le spiegheremo dopo non date retta a chiunque dica stupidaggini differenti da queste perché non sono cose conformi alla sana dottrina cattolica quindi chi la dovesse chi voresse andare a letta alle favole o alle illusioni lo faccia pure ma ha proprio rischio e pericolo io gli dico se da letta a cretinate andrà incontro ad aspre smentite e delusioni quando però sarà troppo tardi perché se non hai fatto penitenza in questa vita caro mio te ne accorgerai che era necessario quando sei morto e dopo però la farai in purgatore quella te la risparmia nessuno quella lì non te la risparmia nessuno quindi attenzione a chi diamo retta adesso ho già detto di non fare domande per favore durante la diretta le domande si fanno dopo quando la catechesi è terminata è un problema anche di educazione ok bene allora detto questo quindi noi aspettiamo ardentemente quel secondo giorno del Signore e quella beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio paragrafo 89 il duplice giudizio particolare e generale per amore di chiarezza i parloci distingueranno bene le due epoche nelle quali ciascuno deve comparire innanzi al Signore attenzione per rendere ragione di tutti e singoli i pensieri le opere le parole e sentire poi l'immediata sentenza del giudice finisco il paragrafo poi chiaramente commento queste parole la prima viene quando muore ciascuno di noi subito l'anima si presenta al tribunale di Dio subito ove si fa giustissimo esame di quanto ha operato detto o pensato e questo si chiama giudizio particolare la seconda verrà quando tutti gli uomini saranno riuniti insieme in un giorno e in un luogo stabilito innanzi al tribunale del giudice con la G maiuscola affinché tutti e singoli spettatori e ascoltatori gli uomini di tutti i secoli sappiano la propria sentenza il verdetto non sarà per gli empi e scellerati la minore delle pene mentre i pie giusti ne troveranno grande premio e frutto poiché sarà manifesto come ciascuno ci ha diportato in questa vita e questo si chiama giudizio universale allora numero uno a queste cose dobbiamo pensarci adesso figlioni miei cari non dopo noi dobbiamo sapere che dovremo rendere ragione al signore di tutti i nostri pensieri tutti e singoli si specifica pensieri opere e parole tutti e singoli nel giudizio particolare questo avviene a tu per tu con Dio non riguarda altri ma nel giudizio universale questo sarà conosciuto da tutti lo sai che significa sapete quanta gente tu c'è un pensiero negativo verso qualcuno o nel segreto quante volte succede uno fa taglia e cuce quindi chiacchiera con un altro e quando il nostro signore svererà le coscienze davanti a tutti che cosa che cosa fai cosa gli racconti ci credi cioè guardate che quando noi credessimo veramente a queste cose guardate che la vita non è la stessa così come la vita è molto diversa la vita di chi non ci crede a queste cose che pensa che può fare quello che vuole che tanto no no tanto niente tanto niente impariamo anche ad affidare la nostra vita la difesa anche della nostra persona quando viene che ne so attaccata ingiuriata soprattutto a causa del Vangelo a Dio parlino pure facciano pure io personalmente vi ve lo dico lo confesso lo faccio sempre lo faccio rinuncio alla difesa personale e dico ah io non ho niente da dire mi appello a domine Dio e ripeteremo questa cosa davanti al cielo quando come dice San Paolo si ha la testimonianza di una buona coscienza cioè pur nella consapevolezza dei nostri limiti miserie innumerevoli peccati imperfezioni mancanze difetti mettiamoci tutto quello che vogliamo però se uno in coscienza cerca di fare quello che Dio vuole ci prova per quanto lo conosce e agisce comunque con retta intenzione non c'è niente da tenere al giudizio di Dio niente è chi ha le magagne è chi fa i doppi giochi è chi è falso ipocrita che ti fa una faccia davanti e dietro chi lo sa quello che pensa di te questi devono molto temere molto perché verrà il giorno in cui adesso qui il nostro signore ci fa la grazia che la nostra coscienza è chiusa e blindata nessuno può conoscere i nostri pensieri io posso stare davanti a una persona nei confronti di cui ne penso peste e corna e quello non si rende conto assolutamente di niente se sono bravo a dissimulare non si rende conto assolutamente di niente lui no ma Dio sì però lui o lei no ma Dio sì quindi e di quello che abbiamo pensato detto fatto riceveremo ricompensa nel bene o nel male il passo che è citato io lo faccio sempre funerali è un passo della lettera di San Paolo tutti siamo chiamati a comparire dinanzi al tribunale di Dio ciascuno per ricevere la ricompensa delle opere compiute mentre erano nel corpo sia in bene che in male punto è una delle letture che si fanno ai funerali io personalmente la faccio quasi sempre quando c'erebbe i funerali ovviamente poi paragrafo 90 necessità del giudizio universale è necessario spiegare perché oltre al giudizio privato dei singoli si farà anche quello universale primo avviene spesso che sopravvivano ai defunti dei figlioli imitatori dei genitori o dei discepoli fedeli nell'amarne e propugnarne gli esempi le parole e le azioni il che necessariamente fa aumentare il premio o la pena dei defunti medesimi sapetelo è verissimo io sono un prete io muoio se ci sono delle persone che magari attraverso il mio ministero si sono avvicinate al signore e si santificheranno faranno una buona vita cristiana e questo andrà ad accrescere speriamo l'eventuale premio che si avrà la stessa cosa vale per un genitore nei confronti dei figli di un politico di un re nei confronti dei propri sudditi vale anche il contrario ovviamente se una persona con i propri scandali cattivi esempi o scelleratezze va a concorrere alla pena di altre persone oltre che alla propria secondo poiché la fama dei buoni è spesso lesa mentre gli empi vengono esaltati come innocenti la giustizia di Dio dunque vuole che i primi ricuperino innanzi all'assemblea di tutti gli uomini la stima ingiustamente loro tolta ti tolgono la stima ti diffamano ti insultano allora piccolo consiglio sacerdotale fatti un bel esame di coscienza e vedi se quella diffamazione quell'insulto anche se è stato espresso in maniera negativa ha come dicevano i giudisti romani un fondamento in re cioè c'è qualcosa di vero cioè anche se questo comunque mi insulta e mi tratta male però io non è che mi sono comportato tanto bene e in tal caso perdona l'offesa e correggi il difetto se invece quello ti sta insultando gratuitamente ti sta diffamando prega per lui e pensa al giudizio universale ci sarà un giorno in cui il nostro signore lo prende quello là e dice scordi vieni un po' qua che hai detto tu di questo mio servo hai detto questo l'hai diffamato in questo modo qua ti faccio vedere com'era il cuore di questo mio servo che cosa lui stava facendo e come stava pregando per te vergognati davanti a tutti bello no? è solo questione di averci un pochino di pazienza noi dobbiamo imparare da Dio questa grande classe Dio non c'ha fretta Dio c'ha i suoi tempi c'ha permette alle cause seconde di scatenarsi al diavolo ogni tanto di fare il diavolo a quattro dai dai buon divertimento dai sfogate vai ma alla fine vince sempre lui sarebbe bene che imparassimo certamente noi non possiamo metterci a livello dell'altissimo però qualche cosa imparare qualche cosa va bene l'importante è che ci sia la testimonianza della buona coscienza cioè è che tu non ti debba sentire in difetto davanti a Dio cioè che lui abbia qualcosa di cui rimpoverarti dipendente da tua colpa allora si che bisogna preoccuparsi o meglio non disperarsi però fare una buona confessione e chiedere perdono questo si terzo poiché gli uomini buoni o cattivi hanno compiuto nella vita le loro azioni con il loro corpo ne segue che le azioni buone o cattive spettino anche ai corpi che ne furono lo strumento è giusto dunque dare ai corpi insieme con le rispettive anime il dovuto premio di eterna gloria o del castigo ciò che non si può fare senza la risurrezione degli uomini è il giudizio universale perché il giudizio universale dopo lo specificherà ulteriormente avviene avverrà dopo la risurrezione della carne cioè ci si troverà dinanzi al giudice il risurrezione universale non soltanto con l'anima come quando moriamo ma anche con il corpo risuscitato e anche il corpo dei dannati risusciterà non come quello dei beati perché il corpo dei beati risurgerà come quello di Cristo risorto quindi bello perfettissimo glorioso pieno di splendore agile capace di passare attraverso i muri capace di muoversi alla velocità superiore rispetto a quella della luce eccetera 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 i corpi dei dannati non saranno così saranno come quelli che c'hanno adesso ma in peggio quindi sensibilissimi a ogni dolore brutti puzzolenti mostruosi per tutta l'eternità è bene pensarci ogni tanto è specialmente da parte di chi conduce vita particolarmente viziosa e lontana da Dio non è una prospettiva allegra ripeto uno ci può credere o ci può non credere sarebbe da chiusare una vecchia canzoncina di qualche trasmissione di San Del Ramondo che dice a beato chi ci crede ecco peato veramente chi ci crede perché chi non ci crede questo si troverà davanti anche se non ci crede quarto bisognava mostrare finalmente che nei casi prosperi o avversi i quali capitano talora promiscuamente agli uomini buoni e cattivi nulla nulla avviene fuori della infinita sapienza e giustizia di Dio ripeto nei casi prosperi o avversi i quali capitano talora promiscuamente agli uomini buoni e cattivi nulla avviene fuori della infinita sapienza e giustizia di Dio quindi è necessario non solo stabilire premi per i buoni e castighi per i cattivi nella vita futura ma anche applicarli in un giudizio pubblico e generale affinché riescano più notori ed evidenti e così si lodi da tutti Dio per la sua giustizia e provvidenza in compenso dell'ingiusto lamento attenzione qui che persone anche sante talora fanno come uomini vedendo gli empi pieni di ricchezza e con milioni onori va stupendo capite che cosa sta dicendo lì appariranno non soltanto i meriti dei buoni e le colpe dei cattivi e quindi i premi dei giusti e i castighi degli empi no ma anche i perché delle cose che accadono perché nulla avviene fuori dell'infinita sapienza e giustizia di Dio che permette il male perché sa trarre fuori il bene tante cose che noi adesso non possiamo capire perfettamente ma quello che non dobbiamo mai fare mi raccomando figlioli miei cari vi prego datemi retta per il vostro bene quello che non si deve mai fare lo dico in termini di gravità primo giudicare Dio mai e le sue opere e non andare dietro a canzone di altri tempi blasfeme che vorrebbero mettere Dio sul banco degli imputati chi fa questo sappia che è meglio non dire a che cosa va incontro perché Dio non si va a giudicare da noi poveri uomini secondo non bisogna nemmeno lamentarsi perché il lamento è ingiusto e attenzione qui ammonisce ci cadono anche le persone sante i lamenti parlavo per una strana Dio incidenza nella meditazione di questa mattina oppure le mormorazioni quello che fece il popolo di Israele nell'esereto che stava sempre a lamentarsi non si fanno terza cosa non si chiede nemmeno a Dio nessuna spiegazione in questa vita a Dio non si chiede perché mai se te la vuole spiegare una cosa o te la vuole far capire te la fa capire lui se non te la vuole spiegare o non te la vuole far capire tu non cominciare a chiedere perché perché Dio non è tenuto a dare nessun perché questo è il momento in cui spiegare a tutti quanti perché questo il giudizio universale attendere prego con pazienza e speranza proseguo la lettura il profeta infatti dice manco poco non vacillassero i miei piedi manco nulla non sdrucciolassero i miei passi quando mi addirai per i prepotenti nel vedere la prosperità degli empi e poco più oltre ecco come gli empi sono tranquilli e crescono sempre in potenza io dunque in vano purificai il mio cuore e ho lavato nell'innocenza le mie mani eccomi tutto il giorno battuto e ogni mattina mi si rinnova il tormento questi sono salmi ma i salmi capite sono un pozzo di sapienza perché in questo caso come dire esternano le le lamentele anche dei buoni e questo è il lamento di molti prosegue il testo era necessario pertanto che si indicesse un giudizio universale affinché gli uomini non dicessero che Dio passeggiando sulla volta del cielo non sicura delle cose terrene quanta gente lo dice questo avete mai sentito dire se se Dio esiste quello se ne sta lassù e figurate se sta a pensare a quello che facciamo noi è sicura degli affari nostri quanta gente sciocca dice questo proseguo la lettura a buon diritto quindi questa formula di verità fu inclusa nei dodici articoli della fede cristiana affinché gli animi di coloro che dubitano della provvidenza e giustizia di Dio vengano sostenuti dall'efficacia di questa dottrina quinto ce n'è anche un altro bisognava che la prospettiva di questo giudizio rallegrasse i buoni e atterrisse i cattivi affinché conoscendo la giustizia di Dio quelli non si scoraggino e questi rinsaviscano nel timore e nell'attesa dell'eterno supplizio minacciare ai peccatori la dannazione è un'opera di misericordia spirituale non è una cosa da matto o da terrorista o da talebano o da predicatore d'altri tempi non lo è è opera di grande misericordia ammonire i peccatori dice il catechismo è opera di misericordia spirituale ricordate cosa dice il ricco cattivo nel Vangelo il povero Lanzaro non dice manda guarda manda manda qualcuno ad ammonire i miei che non vengano in questo luogo di tormenti e Gesù gli risponde hanno un moseo i profeti bastano loro gli ammonimenti no 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 ma se uno tornasse dai morti Gesù dice se non ascoltano un moseo i profeti neanche se vedessero un morto resuscitato sarebbero persuasi quindi perciò il Signore Salvatore nostro parlando dell'ultimo giorno dichiarò che vi sarebbe stato un giudizio universale e ne descrisse segni precursori nei discorsi scatologici qui cita per esempio Matteo 24 29 e seguenti affinché vedendoli apparire intendessimo essere imminente la fine del mondo quindi salito al cielo mandò degli angeli a consolare gli apostoli piangenti per la sua assenza con queste parole quel Gesù che è stato assunto qui da voi al cielo verrà precisamente nella stessa maniera in cui lo avete visto andare al cielo paragrafo seguente numero 91 Cristo è stato costituito giudice anche come uomo la sacra scrittura mostra che a Cristo nostro Signore non solo come Dio ma anche come uomo è stato affidato a questo giudizio infatti sebbene la potestà di giudicare sia comune a tutte e tre le persone della Santissima Trinità pure la si attribuisce particolarmente al Figlio così come gli si attribuisce alla Savienza che poi come uomo debba giudicare il mondo è confermato dalla parola del Signore come il padre ha la vita in sé così diede pure al figlio l'avere in sé stesso la vita e gli ha dato il potere di fare il giudizio perché figlio dell'uomo Giovanni 526 era poi oltremodo conveniente che tale giudizio fosse presieduto da Cristo nostro Signore perché trattandosi di giudicare gli uomini questi potessero con i loro occhi corporei mirare il giudice ascoltare con le proprie orecchie la sentenza proferita percepire insomma con i sensi tutto intero il giudizio era ancora giustissimo che l'uomo che fu condannato dalla più iniqua sentenza umana l'uomo con la U maiuscola quindi il nostro Signore fosse visto da tutti sul seggio di giudice perciò il principe degli apostoli cioè San Pietro nella casa di Cornelio dopo aver esposto per sommi casi la religione cristiana e aver insegnato che Cristo appeso e ucciso sulla croce dei giudei era risolto a vita il terzo giorno soggiunse e ci ha comandato di predicare al popolo e attestare come da Dio egli è stato costituito giudice dei vivi e dei morti ok quindi il potere di giudicare è conferito a Gesù non soltanto perché Dio ma perché figlio d'uomo quindi lui tra l'altro conosce dal di dentro la vita umana e questo certamente è un ulteriore particolare all'assoluta come dire perfezione dei suoi giudizi su di noi poi perché noi siamo esseri umani e perché pronunciato il giudizio da Gesù Cristo appunto in quanto uomo quindi è un giudizio che è possibile percepire con tutti quanti i sensi e poi perché anche per nostro Signore Gesù Cristo ci sarà riscatto lui è stato il primo ad apparire dove diamo in questi giorni cioè ad apparire come un malfattore come un segnato da Dio come un disgraziato come un criminale addirittura come un indemoniato e gli hanno detto di tutti e di più eh ma ci sarà un giorno vedete come Dio aspetta parla 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 dici dici schernisci schernisci scendi dalla croce ma te lo sogni che il nostro Signore Gesù Cristo scende dalla croce non te la dà questa soddisfazione non scende dalla croce ti aspetta giudizio universale per farti rivedere quella scena bene paragrafo 92 segni che precederanno il giudizio sono tre i segni principali che secondo le sacre scritture precederanno il giudizio la predicazione del Vangelo per l'universo mondo l'apostasia e l'anticristo questi tre segni dice fati il Signore si annunzierà questo Vangelo del Regno in tutta la terra per testimonianza a tutte le nazioni e allora verrà la fine Matteo 24 14 l'apostolo ci ammonisce di non farci sedurre dall'imminenza del giorno del Signore se prima non sia seguita la ribellione c'è la apostasia e non si sia manifestato l'uomo del peccato l'uomo iniquo di Cristo non avverrà il giudizio certo che quanto apostasia siamo messi abbastanza bene anche nei nostri tempi premio dei buoni numero 93 quanto alla forma e la natura del giudizio il parroco potrà agevolmente conoscerla sia dalle profezie di Daniele sia dall'insegnamento dei Vangeli e dell'apostolo ma qui si dovrà con grande diligenza meditare alla sentenza del giudice Gesù Cristo salvatore nostro guardando con lieto volto i giusti collocati alla sua destra pronuncerà la loro sentenza con benignità ci dice il Vangelo di San Matteo venite benedetti dal Padre mio possedete il regno preparato a voi fin dalla fondazione del mondo non ci sono parole più gioconde di queste e ben lo intenderà chi le porrà a paragone con la condanna degli Empi con esse gli uomini giusti e pi sono chiamati dalle fatiche a riposo da questa valle di lacrime al sommo gaudio dalle miserie alla beatitudine sempiterna meritata con le opere di carità numero 94 condanna degli Empi rivolto poi a quelli che staranno alla sua sinistra fulminerà contro di essi la sua giustizia con queste parole sentite i termini fulminerà contro di essi la sua giustizia via da me maledetti al fuoco eterno preparato per il diavolo e i suoi angeli con le prime via da me viene espressa la maggiore delle pene che colpirà gli Empi con l'essere cacciati il più possibile lungi dal cospetto di Dio né li potrà consolare la speranza che un giorno potranno fluire di tanto bene questa è dai teologi chiamata pena del danno per la quale gli Empi saranno privati per sempre nell'inferno della luce della visione divina via da me l'altra parola maledetti aumenterà sensibilmente la loro miseria e calamità se mentre sono cacciati dalla presenza di Dio fossero stimati degni di almeno qualche benedizione questo tornerebbe a grande loro sollievo ma poiché nulla di simile potranno aspettarsi che allevi la loro disgrazia la divina giustizia cacciandoli giustamente li colpisce con ogni sua maledizione questa è parola della chiesa e non è parola della chiesa detta a bambera ok ascoltate la parola della della chiesa io sto leggendo queste non sono considerazioni mie adesso dopo commenterò e quando sentite queste cose attenzione ad anestetica a fare una bella anestesia totale perché chi queste cose non le dice non interpreta correttamente il pensiero della chiesa e non bisogna ascoltarlo chiunque sia chiunque sia seguono poi le parole al fuoco eterno via da me maledetti quindi maledetti dalla divina giustizia al fuoco eterno via da me è la pena del danno quindi lontano dalla mia faccia e al fuoco eterno è la pena del senso c'è il secondo genere di pena che i teologi chiamano pena del senso perché si percepisce con i sensi del corpo come avviene dei flagelli delle battiture o di altro più grave supplizio tra i quali non è a dubitare che il tormento del fuoco provochi il più acuto dolore sensibile aggiungendo a tanto male la durata perpetua se ne deduce che la pena dei dannati rappresenta il colmo di tutti i supplizi quindi si accomodino pure quegli stolti esseri umani che con una vita inqualificabile si preparano da solo questa roba qui aggiungendo ciò è meglio spiegato dalle parole che terminano la sentenza fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli siccome la nostra natura è tale che noi più facilmente sopportiamo le nostre molestie se abbiamo come socio delle nostre disgrazie qualcuno sapete come si dice no ma al comune mezzo gaudio la cui prudenza ci possa in qualche modo giovare quale non sarà la misera dei dannati cui non sarà mai concesso in tanti tormenti separarsi dalla compagnia dei perdutissimi demoni bisogna pensarci a queste cose pensarci adesso condannati per l'eternità a stare vicino ai demoni per essere da loro tormentati senza la possibilità di sfuggirne dalle grinfie e senza la speranza che tutto quello abbia una fine tale sentenza giustamente il signore salvatore nostro emanerà contro gli empi perché questi hanno trascurato tutte le opere di vera pietà non hanno offerto cibo all'affamato e bevanda all'assetato non hanno alloggiato l'ospite vestito l'ignuto visitato l'infermo e il carcerato e adesso sentite come conclude questa sezione concludiamo anche noi la catechesi di questa sera il catechismo paragrafo 95 dice conviene parlare spesso del giudizio bisogna parlarne di queste cose ebbene e dicendo la verità non occultando non dissimulando non illudendo la gente che vabbè alla fine va tutto ok tanto Dio è buono quindi non ti preoccupare chi dice questo è un criminale io l'ho detto è un criminale perché è responsabile della possibile anzi probabile perdita eterna delle anime che stessero a sentire queste cretinate contrarie alla rivelazione contrarie a quello che Gesù ci ha detto io lo capisco che queste sono cose sgradevoli non belle non divertenti ma è la verità e noi non abbiamo nessun potere contro la verità scrive San Paolo ma per la verità sentite eh tutto questo i pastori devono frequentemente inculcare al popolo fedele perché la verità di questo articolo concepita con viva fede ha un'efficacia immensa a frenare le brave cupidigie dell'animo e allontanare gli uomini dal peccato cioè la gente deve sapere vuoi continuare accomodati pure ma vai incontro agli eterni supplizi alla dannazione alla compagnia dei demoni alla pena del danno alla pena del senso al rimorso eterno ci stai? vuoi continuare lo stesso? libero cittadino io dovevo darti un'informazione come parroco e te l'ho data adesso decidi tu chi ci crede ci penserà cento volte prima di assecondare le proprie brave e brave cupidigie possiamo ben capire quali sono e andare a commettere peccati mortali perciò nel Siracide è detto in tutte le tue opere ricordati della tua fine non cadrai mai nel peccato Siracide 740 questo è un brano che ho commentato recentemente circo di catechesi bibliche sui libri sapienziali che è finito da poco da poco l'ho commentato questo brano in tutte le tue opere ricordali della tua fine e non cadrai mai nel peccato dobbiamo farlo perché se ti ricordi della tua fine e ci dovrai rendere conto a Dio di quello che stai facendo ti guarderei bene dal calpestare la sua legge è ben difficile infatti che uno sia così procliva al peccato da non sentirsi richiamato al dovere dal pensiero che un giorno dovrà rendere ragione innanzi al giustissimo giudice non solo delle opere e delle parole attenzione ma anche dei pensieri più occulti e pagare la pena dei suoi demeriti chiaro? non solo delle opere e delle parole ripeto qui non c'è niente da commentare ma anche dei pensieri più occulti e pagare la pena dei suoi demeriti chiaro? mentre il giusto verrà sempre più spronato a praticare la virtù e proverà l'edizia grande anche in mezzo alla povertà all'infamia e ai dolori pensando a quel giorno nel quale dopo le lotte di questa vita d'angosce sarà dichiarato vincitore davanti a tutti gli uomini e entrato nella patria celeste vi riceverà onori divini ed eterni queste cose ce le dobbiamo ricordare ti fanno cadere nell'infamia sono tutte medaglie tutta gloria che ti aspetta cadi in povertà sopporta offri il signore ti ricompenserà la vita non finisce con la morte la povertà finisce perché quando sei morto è finita la povertà l'inferno non finisce la povertà affrontata con pazienza è un grande merito i dolori i dolori io l'ho visto con gli occhi miei che significa sopportare da santo i dolori con la morte con la morte da santo del mio più caro amico che era causa diciamo così contingente attraverso il cui il signore mi fece prendere coscienza della chiamata al sacerdozio quello è un astro del cielo perché l'ho visto io con gli occhi miei quello che ha tribolato e quello che ha sopportato e come lo ha fatto con che spirito quel che importa dunque è di esortare i fedeli qui c'è la con i parroci ovviamente con i pastori come sempre ad abbracciare un santo tenore di vita ed esercitarsi in ogni pratica di pietà onde possano con maggiore sicurezza d'animo aspettare il grande giorno del signore anzi desiderarlo con sommo ardore come si conviene figli di dio noi non vediamo l'ora che accadono queste cose non ci abbiamo paura non ci abbiamo paura né della morte né del giudizio particolare e né del giudizio universale non dovremmo avercela se viviamo da figli di dio come si conviene figli di dio figli di dio non sono semplicemente quelli che sono stati battezzati e c'hanno un nome scritto dentro il registro di un battesimo di qualche parrocchia ma sono quelli che vivono da figli di dio non pagani peccatori non conformati allo spirito e alla mentalità di questo mondo che su dio ci ha sputato sopra e l'ha cacciato fuori da ogni ambito noi no noi no noi no noi ci esercitiamo in ogni pratica di pietà cerchiamo di abbracciare un santo tenore di vita santo tenore di vita e quindi attendiamo quel giorno con grande sicurezza d'animo anzi lo desideriamo con sommardore come si conviene appunto ai figli di dio bene amici con questo ci salutiamo e ci aggiorniamo alla prossima puntata che se dio vuole sarà la settimana prossima per quello di la settimana prossima laudentur jesus et maria grazie a tutti